paparaparaparaparaparaparapaparapaparaparaparaparaparaparap ciao ragazzi! guardate cosa mi è arrivato oggi! ragazzi sono super euforico perché questo è il mio libro su tutte le undicimila copie undicimila in tutte le librerie d'italia uscirà il 13 febbraio e il 3 marzo invece farò la presentazione di questo bellissimo libro di 97 pagine e cinema vittoria a modena vi devo dire però delle cose molto 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 importanti allora siccome i posti della mia presentazione del libro sono limitati per assicurarvi di entrare dal 13 febbraio dovete prendere il mio libro nella libreria dentro cinema vittoria così avrete due pass per incontrarmi sabato 3 marzo dalle 15 alle 16 e 30 mi raccomando i posti sono limitati quindi sbrigatevi se non voi non mi potrete più incontrare a parte quando esco allora ancora non ho letto io questo è il dino alfabeto aspettate ragazzi il libro è bellissimo c'è Mauro, Triccio, Biscotto, il nonno, la nonna e io ovviamente vedrete che parlo in prima persona perché sono io che parlo ok e qua c'è scritto dinosauri e poi ragazzi ci sono disegni della mia amica max rambaldi anche dinosauri con le lettere personalizzate le ha disegnate lei ciao max quindi poi qui aspettate ecco qui ha fatto vedere il procedimento di come disegnare un t-rex questo è sempre uno dei disegni di max mauro pittore vi lascio il canale di max qui sotto nella descrizione del video e vi lascio anche qui sotto il link di amazon dove potrete già prenotare il libro questi sono sempre disegni di max bellissimi per tutti quelli che non sono di modena cercherò di fare il possibile per venire anche nella loro città per esempio a bo a roma in sicilia a milano ovviamente a milano per forza è il primo incontro che faccio aspettiamo che arriva cioè noi ne stiamo parlando un mese prima oggi è il 7 febbraio voi lo vedrete l'otto il nove sto video ma oggi è il 7 mercoledì 7 e quindi c'è aspettiamo che arriva aspettiamo che esce il libro e aspettiamo che arriva l'incontro non dobbiamo pensare anche gli altri incontri aspettiamo e quindi adesso lo vado a far vedere a mano ciao ragazzi ciao 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 chiudo ciao ciao